E siamo qua! Andiamo a vedere cosa fanno i Lime? Andiamo! Siamo qui con due dei capitani della squadra Lime Francesca Forte Massimo Valente Stanno facendo brainstorming, quindi chiediamo che cos'è un brainstorming È un momento iniziale, proprio da Eutico al progetto per far emergere idee che ci portino verso delle soluzioni efficaci Insiste nel creare anche una convenzione dove tutti siamo liberi di dire le idee che vengono fuori senza giudizio Da questo si va, come dire, a setacciare le varie cose che ci sembrano più affini, quello che è il brief fino a che condividendo, 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 si arriva poi all'idea In base a questo, appunto, volevo chiederti come state gestendo il brainstorming Allora, lo potete vedere su questa lavagna che ci siamo autocostruiti Praticamente vengono selezionate tutta una serie di keyword che sono date chiaramente per ragazzi Sono ragazzi con formazioni differenti Quindi, diciamo, cerchiamo in qualche maniera di trovare in qualche maniera una identità Poi c'è una prima scrematura Poi lavoriamo e le altre lasciamo sempre lì in vista perché non si sa mai Grazie, buon lavoro Grazie Grazie